Siracusa guida, circomotore senza patente poiché mai conseguita, ha denunciato 22enne. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, gli agenti delle volanti hanno denunciato un giovane di 22 anni sorpreso alla guida del suo circomotore senza patente di guida perché mai conseguita. E nell'ambito dei quotidiani controlli a coloro che sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, agente del commissariato Ortigia hanno denunciato per evasione un uomo di 45 anni, sottoposto agli arresti domiciliari e assente al controllo.